Ciao io sono Luca di approccialla.it e in questo video tratteremo la questione del imparare la seduzione vuol dire manipolare le donne? Per iniziare ricordo per chiunque mi seguisse a poco, sono il punto di riferimento in Italia dal 2018 per chiunque vorreste imparare realmente, tramite dei corsi, come imparare a conoscere la ragazza di giorno e portare la conoscenza fino in fondo, fino alla camera diretto e anche oltre anziché soltanto fino al numero di telefono o poco più come insegnano tutti quanti gli altri nel panorama seduzione in Italia quindi il video di oggi più che altro è per persone che sono molto inizi che probabilmente guardano ancora soltanto da spettatori il mondo della seduzione che magari si chiedono se effettivamente è possibile imparare come si fa con le donne dubbi che sono leciti quando si ha inizi quindi questo è un video con detto più che altro per chi è molto inizi ancora è in dubbio se queste cose esistono, si può fare, non si può fare e tanti quando sono molto inizi e sono ancora esterni al mondo della seduzione hanno una serie di credenze che sono false adesso le vediamo in questo video, una delle credenze classiche io poi mi sono segnato qua tutta una serie di cose per andare con un ordine più o meno sensato tanti pensano agli inizi quando sono ancora esterni al mondo della seduzione si pensa che la seduzione vuol dire manipolare le donne a fare delle cose che in realtà non vogliono fare oppure vuol dire approfittarsi delle donne oppure vuol dire usare le donne come oggetti tutte cose che tantissime persone pensano che ripeto sono false adesso lo vedremo qua all'interno di questo video il perché ci sono qua nella strada che penso abbastanza a lungo come video oppure tanti pensano che se approccio una ragazza soprattutto di giorno per la strada la sto andando a importunare, la sto andando a disturbare lei non vuole essere disturbata e importunata tutte cose che fanno presumere che la ragazza vive un'esperienza negativa adesso lo vedremo, tutte quante queste cose oppure tanti pensano che te la vuoi soltanto portare a letto perché l'assunto di questa cosa qua è che allora me la voglio soltanto portare a letto e la ragazza quindi vive un'esperienza negativa perché la ragazza non vuole far sesso no, le ragazze vogliono far sesso poi lo vedremo all'interno di questo video a parte che a te è stupido volersi portare a letto volersi soltanto portare a letto nel momento in cui ti porti a letto una ragazza e ti trovi un minimo bene ci sono sempre le due possibilità che si aprono che sono una relazione seria e la seconda è la tromba amicizia se poi non ti trovi bene a prima volta uno di due che sia tu o che sia la ragazza non vi trovate bene a prima volta ok, non vi vedrete più ma nel momento in cui ci si trova un minimo bene fra i due è stupido volersi solo portare a letto una volta ci sono poi, si aprono le due possibilità o una tromba amicizia quindi continuare a vederla ok, per andare a letto insieme ma comunque continuare a vederla volersi solo portare a letto una volta è stupido nel momento in cui vi trovate bene ci si continua a frequentare poi o per una tromba amicizia oppure per una relazione più seria ma questi sono altri discorsi quindi tutte queste credenze qua che fanno presagire che sono tutte credenze che hanno tante persone in testa quando sono a molti inizi tutte credenze che fanno presagire che la ragazza vive un'esperienza negativa nel momento in cui si va a rapportare con un uomo ma non è così chiaramente a patto che la ragazza venga approcciata nella maniera corretta se approcci le ragazze senza nessun tipo di metodo è quello che fa vivere effettivamente un'esperienza negativa alla ragazza comunque questi sono altri discorsi però la questione della seduzione è manipolare le donne dopo aver fatto oltre 5.000 approcci in 6 anni, 7 anni ormai non lo so ho perso il conto ho iniziato nel 2015 a approcciare le ragazze al vivo però ho scoperto il mondo della seduzione verso la fine del 2014 però poi effettivamente ho iniziato a praticare dal vivo nel 2015 a giugno, maggio 2015 non lo so e dopo ormai 6-7 anni ho ormai perso il conto di pratica, di esperienza posso dire che sono tutte cazzate tutte le sto disturbando le sto importunando la sto manipolando le faccio fare delle cose che lei non vorrebbe fare tutte queste cazzate qua che alcune cioè alcuni hanno il dubbio recito ci sta è normale avere questo tipo di dubbio quando si è ancora esterni a questo mondo alcuni invece sono semplicemente stupidi vogliono soltanto rompere le palle e hanno questo tipo di credenze ma non hanno realmente l'intenzione di migliorarsi e lì semplicemente se rientri in questa categoria ovvero persone che non hanno effettivamente l'intenzione di migliorarsi hanno semplicemente queste credenze in testa e ok non so che dirti abbandona questo video se effettivamente hai il dubbio lecito e però vuoi capire effettivamente come funziona il mondo delle dinamiche fra uomo e donna ok prosegui con la visione di questo video quindi ripeto sono tutte cazzate queste cose cioè sono tutte false credenze oltretutto come ho già detto in tanti altri video è una fantasia delle ragazze la questione del conoscere un ragazzo per caso durante la quotidianità quindi soprattutto in questo caso per la parte di approccio di giorno perché lo vedono nei film questa cosa le ragazze nella vita reale è molto raro in realtà per una ragazza conoscere un ragazzo con il quale poi avrà un qualcosa con il quale andrà a letto con il quale avrà una relazione conoscerlo durante la quotidianità di giorno in una situazione casuale di giorno la maggior parte delle persone si conosce tramite discoteca tramite app di incontri online tramite conoscenze in comune la conoscenza di giorno è molto più rara è una cosa che le ragazze vedono però molto nei film nei film è molto tipica la conoscenza di giorno i due che magari è tipica in molti film americani che i due si scontrano con i libri fuori dall'università poi uno dei due aiuta l'altro a raccogliere i libri poi si incrociano gli sguardi amore a prima vista che poi in realtà nella vita reale non esiste la cosa dello sguardo dell'amore a prima vista però comunque è una situazione che le ragazze vedono la conoscenza di giorno oppure anche in tantissime altre situazioni nei film e le ragazze sognano di vivere la vita che vedono nei film quindi le ragazze hanno questa fantasia segreta che chiaramente non è una cosa che dicono parole ok lo si può riconoscere da tante cose se non è questo il discorso però è una fantasia che hanno le ragazze quindi non la stai importunando non la stai disturbando chiaramente la stai disturbando la stai importunando nel momento in cui l'approcci in maniera da disagiato ho già fatto altri video riguardo a questo argomento c'è un video sul mio canale youtube che si chiama se non sbaglio 10 errori fatali da non fare quando approcci una ragazza al vivo li tratta alcuni degli errori che fanno la maggior parte degli uomini quando approcci una ragazza al vivo nel momento in cui commetti tutti quegli errori appari come disagiato agli occhi della ragazza e si in quel caso la stai disturbando ma nel momento in cui approcci una ragazza nella maniera corretta poi non so ci sono già tantissime cose da dire in questo video quindi non so quanto voglio fare digressioni per poi diventare un video lunghissimo e nel momento in cui approcci una ragazza nella maniera corretta le ragazze soprattutto quando sei agli inizi ti dicono molto spesso complimenti per il coraggio perché non mi era mai successo in questo caso parlo in uno specifico di approcci giorno per strada perché nel momento in cui la ragazza viene approcciata tutti quanti i giorni tutti i giorni sia dal vivo che online però viene approcciata sempre nella maniera sbagliata quindi nel momento in cui riceve un approccio fatto bene te lo fa notare ti dice complimenti perché non mi era mai successo le ragazze nel corso di una vita ricevono veramente molti molti pochi approcci effettivamente fatti correttamente anche meno di una decina in tutta una vita comunque questi sono altri discorsi quindi la società che diciamo all'interno della società rientrano i film che vediamo che pensiamo che noi i film non ci influenzano no i film ti influenzano le cose che perché vedi nei film a livello di dinamiche fra uomo e donna sono le cose che poi apprendi molto banalmente l'appuntamento a cena la maggior parte di uomini pensano che l'appuntamento a cena sia giusto da dove solo si impara l'appuntamento a cena lo si impara dai film ma l'appuntamento a cena è una delle cose più sbagliate che si possono fare a livello di dinamiche fra uomo e donna perché nel momento in cui fai un appuntamento a cena ti siedi frontale non puoi fare contatto fisico non ho contatto fisico non ho bacio non ho bacio non ho sesso però l'appuntamento a cena e lo sanno tutti si fa l'appuntamento a cena è sbagliato tutti non hanno i risultati con le donne questi sono altri discorsi non vorrei in realtà dilungarmi su tutte le varie digressioni perché mi sono segnato un sacco di cose da dire comunque la società ovvero i film i social Instagram Facebook eccetera le credenze che ci si passa di generazione in generazione tutte queste cose qua quindi che rientrano all'interno della società quindi la società dipinge l'uomo come l'unico che vuole far sesso fra uomo e donna la società dipinge l'uomo come l'unico che vuole far sesso mentre la donna no la donna no non vuole far sesso e l'uomo tutto ci casca poi in questa cosa ed è da lì che poi nascono tutte queste false credenze e se la donna non vuole far sesso e allora io imparo come portare l'interazione dall'approccio fino al sesso allora la sto fregando la sto manipolando a fare una cosa che lei non vuole perché lei non vuole far sesso no le donne vogliono far sesso adesso ne parliamo quindi questo tipo di di falla cognitiva che c'è nella società che appunto si pensa e tanti lo pensano magari se non lo pensi magari se non lo pensi consciamente molto probabilmente lo pensi inconsciamente ok se non hai capito le ascolta questo discorso e tanti pensano che effettivamente è far sesso con una ragazza sia sbagliato quindi magari tu stai dicendo in questo momento ma che cazzata è io non lo so che far sesso con una ragazza è giusto che lo si può fare che va bene però tanti in realtà inconsciamente poi hanno la credenza del far sesso con una ragazza è sbagliato facci il sesso prima puntente o sei uno superficiale e tutte queste cose qua che poi ti impediscono di rapportarti effettivamente con le ragazze quindi infatti una donna appunto per riprendere il discorso una donna che manifesta troppo interesse nel sesso una donna che manifesta interesse troppo esplicito nel sesso viene giudicata quindi viene giudicata come una troia come una zoccola come una facile come una poco di buono tutte cose che sono negative per la ragazza quindi la ragazza non può essere troppo esplicita nel far sapere che ha interesse nel sesso e quindi l'uomo ci casca e quindi l'uomo pensa ma lei non vuole fare sesso lei vuole aspettare 800 milioni di appuntamenti prima devo conoscere i suoi genitori o ste cazzate di questo tipo non funziona così quindi l'uomo ci casca ed è da lì che poi nascono tutti quanti questi pensieri che se lei non vuole far sesso non è che lei non vuole far sesso che non può mostrarlo in maniera troppo esplicita e quindi l'uomo ci casca pensando che la donna non vuole far sesso e quindi se cerco di far sesso con lei la sto fregando con tutti questi blocchi in testa riguardo al sesso è molto molto difficile per non dire impossibile riuscire ad andare a letto con una ragazza adesso ne parliamo all'interno di questo video quindi con questo lavaggio del cervello che la società fa a tutti quanti compreso a me io non sono esempio a questo discorso io soltanto io sono arrivato a un punto in cui mi sono tolto tutte queste cazzate alla testa ok adesso ne parliamo quindi con questo lavaggio del cervello che parte dal giorno in cui si nasce si viene educati a pensare tutta una serie di cose che sono sbagliate in realtà già in parte ho un po' accennato ovvero che tanti pensano che il sesso è sbagliato ti devi vergognare della tua sessualità per esempio la parola sesso viene censurata prova a dire per esempio se sei adesso magari in casa da solo per conto tuo prova metti in pausa il video e prova a dire la parola sesso noterai tante persone noteranno che effettivamente vanno giù con il tono di voce perché se mi sente qualcuno oppure si prova a disagio a dire la parola sesso in pubblico tutte cose che ho anch'io oltretutto se vai a guardare i miei primi video sul canale youtube le prime dirette i primi video quando mi capitava di utilizzare la parola sesso in realtà ero un po' a disagio magari non si nota se hai un occhio molto fine lo riesci a notare però io ero a disagio perché sei in un video in un video che è pubblico e quindi la parola sesso viene censurata da qui nascono tutti quanti questi paradigmi negativi riguardo al sesso molto banalmente giusto per fare un esempio che lasciamo stare facciamo lo stesso esempio il mio attuale videocorso che si chiama dall'approccio alla camera da letto e una volta si chiamava dall'approccio al sesso se la parola sesso non fosse un problema che motivo ci sarebbe di cambiare il nome a un videocorso e perché se c'è la parola sesso nel titolo poi non può essere pubblicizzato su varie piattaforme tipo facebook youtube robe varie se la parola sesso non fosse un problema se non fosse un tabù se le persone avrebbero paradigmi negativi riguardo alla parola sesso che motivo ci sarebbe di censurarla è così che nascono tutti quanti questi blocchi riguardo al sesso quindi bisogna vergognarsi della propria sessualità e quindi come fai a rapportarti con le ragazze in maniera funzionante nel momento in cui ci sono tutti questi blocchi negativi in testa ok adesso andiamo avanti perché ci sono tantissime cose da dire quindi come ho detto con questo lavaggio del cervello si viene educati a pensare che quindi il sesso è una cosa sbagliata ti devi vergognare eccetera se vuoi far sesso con una ragazza velocemente se hai uno superficiale altra credenza falsa che il sesso prima appuntamento è sbagliato tanti pensano questa è una cosa e poi si installa nella testa delle ragazze che appunto poi si sentono giudicate se fanno sesso al primo appuntamento e quindi ti fanno aspettare perché se fanno sesso con te al primo appuntamento e si sentono delle troie si sentono delle zoccole lì poi bisogna sapere essere in grado di passare questo tipo di obiezioni non giudicando la ragazza ma come si fa per esempio a non giudicare la ragazza perché non è una cosa che puoi fare diciamo in maniera conscia cioè devi aver rimosso dalla tua testa tutte queste false credenze nel momento in cui vai a rimuovere dalla tua testa queste false credenze la ragazza non si sente giudicata perché senti tu non hai questo tipo di paradigmi negativi riguardo al sesso poi ci sono anche altre cose da tenere in considerazione per passare le obiezioni riguardo al sesso quando sei in casa con la ragazza però ci sono tante cose da dire oppure tanti pensano che come ho detto prima che la stai usando la stai fregando perché lei non lo vuole e la ragazza mica vuole fare sesso quindi se riesco a fare sesso con lei l'ho fregata la sto usando non è così quindi come ho detto con tutti questi blocchi riguardo al sesso come pensi di poter avere delle possibilità con le ragazze le donne adesso questa frase stampatela in testa ovviamente ci ho messo tanto per capirlo e per capirlo bisogna eseguire ripetizioni quindi consiglio poi caldamente di sentirsi più volte questo video non per forza di guardarlo ma anche sentire semplicemente l'audio quindi le donne vogliono far sesso tanto quanto l'uomo ripeto le donne vogliono far sesso tanto quanto l'uomo se non addirittura anche di più però per gli standard sociali non possono farlo sapere in maniera troppo esplicita altrimenti vengono giudicate a livello di standard sociale a livello di stereotipo sociale un uomo che va letto con tante ragazze è quello figo quello che viene acclamato e una donna che va letto con tanti uomini se lo fa sapere in giro tutti quanti le dicono se è una troia se è una zoccola poi magari quando si parla con le amiche magari le danno della zoccola della troia tutte cose che la ragazza chiaramente non vuole per questo motivo la ragazza deve essere cauta nel manifestare un eccessivo interesse per il sesso e appunto è lì che è l'uomo che ci casca e quindi pensa che la donna non vuole far sesso e quindi se riesco a farci sesso l'ho fregata l'ho usata la sto oggettificando queste cazzate qua quindi ripeto le donne vogliono far sesso tanto quanto l'uomo ma per gli standard sociali non possono farlo sapere in maniera troppo esplicita adesso qua ti do alcuni dati scientifici oggettivi che sono tutte queste cose il dare più prove oggettive al tuo cervello del fatto che questa cosa è reale del fatto che le donne vogliono far sesso tanto quanto l'uomo se non anche di più adesso lo capirai piuttosto bene darti delle prove oggettive di questo serve per andare a toglierti questi blocchi negativi che hai in testa riguardo al sesso quindi prima cosa da sapere che un terzo degli utenti di siti porno in media poi in realtà dipende a sito porno a sito porno quindi vai a documentarti su google un terzo degli utenti di siti porno in media sono donne se alle donne non interessasse il sesso che motivo ci sarebbe di guardare di guardare video porno siti porno eccetera e l'oltre tutto tantissime donne non l'ammettono questa cosa perché se se l'ammettono poi vengono giudicate sempre lo stesso discorso se una ragazza manifesta troppo interesse nel sesso poi ci sono tantissime ragazze che non hanno nessun tipo di problema con la loro sessualità meno male ci sono tantissime ragazze che se ne fregano del giudizio gli altri meno male ma la maggior parte non sono così la maggior parte delle ragazze hanno blocchi sul sesso esattamente come anche l'uomo quindi una ragazza non manifesta interesse nel sesso se tu chiedi a una ragazza se lei magari quando ci sei un po' più in confidenza magari dopo dopo ci sei arrivato al bacio all'appuntento dopo ci sei stato letto dopo ci sei stato letto di solito c'è molta fiducia troppo dire tranquillamente e però tante ragazze non lo dicono perché se no manifesto troppo interesse nel sesso e quindi vengo giudicata ok ma bisogna capire che semplicemente è una questione che per gli standard sociali non lo può far sapere in maniera esplicita altrimenti viene giudicata non significa che non vuole fare sesso ok le donne hanno orgasmi multipli l'uomo da quello che ne so io ha soltanto un tipo di orgasmo la donna ha l'orgasmo vaginale l'orgasmo anale l'orgasmo clitorideo l'orgasmo della donna dura 20 secondi l'orgasmo dell'uomo dura 3 secondi ok la donna prova molto più piacere nel sesso rispetto all'uomo però come detto e quindi di conseguenza le donne hanno più interesse nel sesso ma per gli standard sociali non possono farlo sapere troppo esplicitamente cosa che era nel clitorio ci sono il doppio delle terminazioni nervose che ci sono nel pene quindi il piacere che tu provi nel sesso da uomo la donna lo prova il doppio scientificamente quindi di base la donna ha molto più interesse nel sesso rispetto all'uomo però per gli standard sociali non può farlo sapere in maniera troppo esplicita quindi l'uomo ci casca e quindi poi l'uomo pensa la sto manipolando a fare una cosa che lei non vuole fare se imparo come si fa con le donne se imparo ad essere sicuro di me stesso se imparo a conversare con le ragazze se imparo tutte quante le fasi di interazione dall'approccio fino al sesso la sto manipolando con delle tecniche oscure segrete e magiche le sto facendo fare una cosa che lei non vuole fare ovvero finire a letto con me lei non vuole farlo quindi la sto manipolando no anche la ragazza lo vuole ok adesso ne parliamo durante il corso di questo video che come detto penso che sarà abbastanza lungo oltretutto dopo una performance scadente a letto molte ragazze poi alcune non è così però molte ragazze non ti vogliono rivedere dopo una performance scadente e questo lo sa soltanto chi ha un po' di esperienza se sei stato letto nella tua vita solo con una due tre cinque ragazze questa cosa magari la sai non la sai nel momento in cui sei stato letto con decine se non anche centinaia di ragazze lo sai soprattutto agli inizi mi ricordo che agli inizi quando avevo poca esperienza era molto facile performare in maniera sbagliata a letto e quindi poi la ragazza non ti vuole rivedere ok ho trovato anche più o meno recentemente mi era successo una volta perché sono stato stupido io ci siamo sparati due bottiglie di vino in due l'appuntamento abbiamo fatto un appuntamento direttamente in casa sono stato stupido io a verci una bottiglia di vino a testa e l'alcol non aiuta nel performare a letto ok e nel momento in cui performi male a letto molte volte le ragazze non ti vogliono rivedere non sempre però quindi qualche volta la ragazza ti dà la seconda possibilità se però sbagli anche la seconda possibilità performi ancora male molte volte poi non c'è una terza possibilità se non fosse importante il sesso per le ragazze che motivo ci sarebbe potrebbe tranquillamente andare avanti a vederti tanto alla ragazza non importa il sesso giusto? no alla ragazza importa e quindi se performi male a letto la prima volta magari ti dà una seconda possibilità ma se performi male anche la seconda volta di solito non c'è poi una terza volta perché il sesso è importante per le ragazze anche la questione che il sesso il non appagamento sessuale in una relazione quindi una relazione seria è uno dei motivi principali dei tradimenti i tradimenti nelle relazioni coppia avvengono per due macro motivi o per non appagamento sentimentale quindi lui non le dedica abbastanza attenzioni o cose di questo tipo e il secondo motivo è invece il non appagamento sessuale quindi magari è uno che sentimentalmente è presente dà le giuste attenzioni però a letto non riesce a pagarla e la ragazza quindi di conseguenza dopo un po' va a ricercare al di fuori della relazione l'appagamento sessuale se non fosse importante per le donne che motivo ci sarebbe di andare a ricercare al di fuori della relazione l'appagamento sessuale e perché per le donne è importante il sesso ma per i standard sociali non possono farlo sapere in maniera esplicita quindi l'uomo ci casca ma tu uomo se stai guardando questo video che ti stai iniziando a interessare o magari sei già una persona che mi segui da tanto tempo magari queste cose le sai anche già quindi magari ti stai sbellicando dalle risate però come ho detto è un video più che altro per chi ancora guarda da spettatore ancora dice ma non so queste cose sono delle cazzate si può imparare a saperci fare con le donne boh non lo so vediamo e per chi è molto agli inizi e che ha questi dubbi decidi non cascarci le ragazze hanno interesse nel sesso tanto quanto te ma non possono farlo sapere in maniera troppo esplicita oltretutto le ragazze vengono vestite agli appuntamenti in maniera veramente assurda tantissime volte se hai fatto cose fatte correttamente le ragazze vengono vestite al primo appuntamento o comunque gli appuntamenti in generale vengono vestite molto eleganti con i tacchi profumo capelli super lisci che ci hanno messo un impegno assurdo per prepararsi per appuntamento e le ragazze vengono appuntamento sperando tante lo sperano inconsciamente alcune lo sperano consciamente arrivano all'appuntamento che sperano di trovare qualcuno che le faccia godere quella sera ripeto tante ragazze non lo fanno a livello conscio questo ragionamento alcune si tante lo fanno la maggior parte tutte lo fanno a livello inconscio io capisco già come andrà l'appuntamento nel 99% dei casi già soltanto dai primi secondi se vedo che la ragazza è venuta all'appuntamento che ci ha messo un sacco di impegno per prepararsi per vestirsi elegante i tacchi i profumo i capelli super curati ormai l'ho capita questa cosa ci ha messo un po' di tempo per capirla questa cosa mi facevo tutte le parole mentali ai tempi ma se è venuta all'appuntamento ma sarà interessata sì solo il fatto che è venuta all'appuntamento significa che è interessata poi ogni tanto è possibile che ti becchi quella che è venuta all'appuntamento per perdere tempo però di solito lo riconosci anche perché viene vestita all'appuntamento in maniera trasandata quindi nel momento in cui la ragazza viene vestita all'appuntamento elegante le ragazze vengono all'appuntamento sperando che di trovare qualcuno che le faccia godere quella sera e invece chi si trovano agli appuntenti si trovano appuntualmente ragazzi che non hanno nessun tipo di metodo non hanno la minima idea di che cosa bisogna fare non hanno la minima idea di come conversare all'appuntamento di come accendere l'interesse della ragazza di come farle venire voglia di proseguire la conoscenza per esempio in camera da letto gente senza coraggio che magari magari anche con un po' di coraggio che fai il contatto fisico in maniera corretta è il momento di baciare la ragazza però poi ti cagli sotto ti perdi l'occasione di baciare la ragazza e la ragazza perde interesse quindi in realtà imparare la seduzione che poi non c'è seduzione chiamala come ti pare che la vuoi chiamare rimorchiare e semplicemente si chiamano dinamiche fra uomo e donna fine non ci sono le tecniche di seduzione le tecniche di seduzione italiane americane non esistono tutte le robe non esistono esistono le dinamiche fra uomo e donna fine poi le puoi chiamare seduzione le vuoi chiamare rimorchiare le vuoi chiamare come ti pare è rilevante sono le dinamiche fra uomo e donna quindi imparare le dinamiche fra uomo e donna in realtà è un gesto diciamo etico è un dovere verso le donne per salvarle dalla frustrazione di tornare a casa dopo gli appuntenti perché è una cosa reale e me lo ricordo gli appuntenti agli inizi mi ricordo ma neanche tanto agli inizi anche fino a qualche anno fa mi capitava ancora di fare appuntamenti dove sbagliavo le cose le ragazze che magari che venivano all'appuntamento me ne ricordo una una volta che mi dispiace ancora perché questa ragazza è venuta dalla Svizzera fino a Milano ha offerto lei all'appuntamento si è vestita super elegante cioè era troppo chiaro che voleva che voleva far sesso quella sera però ho sbagliato tutto quanto all'appuntamento e la ragazza torna a casa frustrata perché si aspettava e trova qualcuno che cazzo ci sapesse fare invece si trovano all'appuntamento sempre gente che non è non è in grado di capire i segnali della ragazza gente che non ha nessun tipo di metodo gente senza coraggio gente che si perde occasioni gente ubriaca prima perché sono riuscito a fare una corsetta per fare un po' di attività fisica adesso è sabato sera è passata mezzanotte quindi ormai è domenica c'era un sacco di gente in giro tutte quante le bottiglie di birra in giro e sono quelle là poi le persone che si trovano le ragazze tutta gente ubriaca attualmente quando sto registrando questo video le discoteche sono chiuse però sono quelli gli uomini che poi le ragazze si trovano in discoteca quindi fai un favore al genere femminile impara le dinamiche fra uomo e donna e sarai sempre tu l'eccezione sarai sempre tu quello che fa vivere le esperienze positive alle ragazze a me ormai capita per niente sempre forse me l'ho segnato dopo forse va qui il fatto che nel momento in cui impari le dinamiche fra uomo e donna fai sempre vivere le esperienze positive alle ragazze chiaramente non è che vuol dire che ogni approccio che fai andrà sempre bene ma di base sei sempre tu l'eccezione per le ragazze a me ormai succede per niente sempre nell'ultimo anno con quasi tutte le ragazze con cui sono stato letto sempre mi dicono ormai sono sempre quelle lì le 3-4 frasi che ne sono sempre non mi ero mai aperta con qualcuno così velocemente non mi ero non avevo mai fatto senso con qualcuno al primo appuntamento non avevo mai fatto senso con qualcuno con uno sconosciuto e poi non vuol dire niente nel momento in cui siamo andati a lette perché non siamo più così tanto sconosciuti tutte frasi che non escono dalla bocca di una ragazza che ha vissuto un'esperienza negativa quindi non l'hai fergata non la stai manipolando non la stai usando oggettificando testeccazzate qua se una ragazza arriva a dire queste cose è perché ha vissuto un'esperienza positiva non un'esperienza negativa ci sono screenshot poi non so ce li ho poi li devo cercare poi verranno montati a schermo e mi ricordo una ragazza nel 2019 una delle ragazze più importanti che ho conosciuto negli ultimi anni importante per me non che fosse famosa importante per me che con la quale ce l'ho noto letto poi il giorno stesso in più o meno 5 ore dopo l'approccio e che praticamente mi ricordo poi siccome non viviamo nello stesso paese però lei voleva una reazione anche a me sarebbe andata bene però non viviamo nello stesso paese quando poi lei è ritornata nel suo paese mi era scritto il messaggio del fatto che era stata contenta di conoscermi anche se all'inizio si era un pochino spaventata però alla fine era stata contenta di conoscermi poi ripeto verrà messo lo screenshot qui a schermo una ragazza non ti scrive queste cose nel momento in cui ha vissuto un'esperienza negativa non l'hai fregata non la stai manipolando tutte cazzate ripeto è giusto avere questo dubbio quando si è ancora spettatori non si ha effettivamente mai avuto nessun tipo di contatto con il mondo della seduzione si vive di pregiudizia intorno persone che non hanno risultati con le donne quindi è lecito è normale pensare a queste cose ma in questo video stiamo andando a vedere che non è così c'è tutto dietro un altro mondo poi verranno montati sempre qua a schermo altri screenshot che li andrò a cercare so che ce li ho poi li andrò a cercare verranno messi come screenshot qui a schermo ragazze che poi che scrivono anche che mi manchi evidentemente una ragazza che ti arriva a scrivere mi manchi che magari siete stati letto insieme e poi per un motivo o per un altro magari non avete più potuto vedervi o magari anche sì semplicemente magari non so sono un po' di giorni che non vi vedete magari lei ti scrive mi manchi evidentemente una ragazza che arriva a scriverti mi manchi è perché ha vissuto un'esperienza positiva non un'esperienza negativa ok sono tutte tutte prove tutti input che sto dando al tuo cervello per farti capire che non è che la ragazza vive un'esperienza negativa non la stai manipolando non la stai fregando niente di tutto ciò oppure anche se vai sul mio sito www.approccialla.it dovrebbe esserci anche il link in descrizione se no vai su www.approccialla.it c'è una sezione poi magari verranno messe anche altre foto qua a schermo di approcci con con ragazze foto di me con ragazze dove è abbastanza evidente alla foto poi ripeto non so quali foto verranno montate a schermo dove la ragazza non sta vivendo un'esperienza negativa cioè sono centinaia di foto di me con ragazze sul mio sito poi in realtà ne ho migliaia migliaia di foto poi verranno caricate tutte quante prima o poi un giorno oppure per chi ha i miei videocorsi ci sono svariati filmati a telecamera nascosta dentro i miei videocorsi filmati a telecamera nascosta dei miei approcci dei miei appuntamenti dove si vede chiaramente la ragazza non sta vivendo un'esperienza negativa una ragazza non ci viene a prendere un caffè con te una ragazza che per esempio conosci così di giorno per strada e che dopo 15 minuti la inviti per prendere un caffè insieme non ci viene se sta vivendo un'esperienza negativa non la stai manipolando non la stai fregando un'altra credenza che hanno tantissime persone sempre quando si è molto agli inizi tanti pensano è che imparare la seduzione che ripeto non si tratta di seduzione si tratta di imparare le dinamiche che ci sono fra uomo e donna tra poco espandiamo ancora un po' di più il discorso tanti pensano che divento innaturale allora che sto fingendo di essere chi non sono non c'entra niente tutto ciò sono semplicemente le dinamiche fra uomo e donna comportarsi in maniera sicura è una dinamica comportarsi in maniera sicura funziona di più rispetto a comportarsi in maniera insicura questa è una dinamica molto semplice essere in grado di essere divertente con una ragazza essere in grado di farla ridere è una cosa che funziona rispetto ad essere noioso con una ragazza non si tratta di fingere di essere chi non sei sono tutte cazzate ok che ripeto sono dubbi leciti quando si è agli inizi ma se si è arrivato a questo punto del video spero che tu stai iniziando a capire che sono solo pregiudizi che siano in testa perché ci rimettono in testa la società che sono i film i social le credenze ci spassano di generazione in generazione sono tutte cose sbagliate che poi non producono risultati ti fanno avere blocchi mentali riguardo al sesso che poi si traducono in ansia nel parlare con una ragazza e se le vado a parlare la storia disturbando tutte cose poi non sono funzionali nel rapportarsi con le ragazze comunque se pensi sul discorso qua del fingere sei naturale non puoi fingere così tanto quando parli con una ragazza infatti nella seduzione nel fare le dinamiche fra uomo e donna esiste una dinamica che sono i cosiddetti test in gergo tecnico si chiamano shit test in maniera italiana si chiamano test di congruenza perché nel momento in cui stai presentando una versione di te stesso interessante la ragazza molte volte ti testa lo fanno molte volte lo fanno inconsciamente alcune lo fanno consciamente la ragazza ti testa uno anche per applicare una selezione perché se dovesse sempre dare il numero uscire con tutti quanti quelli che l'approcciano la ragazza passerebbe tutte quante ragazze quelle che sono minimo carine sono costantemente approcciate tutti i giorni che sia dal vivo che sia online ripeto come l'ho detto prima vengono approcciate tutti i giorni nel modo sbagliato quindi nel momento in cui hai un metodo e ti distingui sei sempre tu l'eccezione comunque la questione dei test le ragazze ti testano come ho detto uno per applicare una selezione due anche per testare se effettivamente la versione di te stesso che stai presentando o questa versione di te stesso che stai presentando che è interessante lo fanno per vedere se quella versione è vera o finta perché non ci vuole molto a fingere per qualche minuto di conversazione a fingere una sicurezza interiore che non hai e ricordiamoci che la sicurezza interiore si può imparare si può sviluppare bisogna lavorare sulle paure nel momento in cui vai a toglierti le paure si sblocca automaticamente la sicurezza interiore quindi è una cosa che si può imparare non è genetica non è un'abilità innata ok io non ce l'avevo la si può imparare con tutte quante le altre qualità il sapere essere divertente qui non si tratta di genetica lo dico anche perché c'è questo tipo di credenza non sono nato portato no è che ti porti tu da solo lasciamo stare le battute quindi e soprattutto come detto non puoi fingere a lungo in un'interazione cioè puoi fingere per 1-2 minuti 5 minuti se sei bravissimo a fingere fingi per 15 minuti fino a quando prendi il numero sei un campione nel fingere e riesci a fingere di essere una persona che non sei per tutto quanto l'appuntamento non si arriva ad avere un risultato con la ragazza nel momento in cui fingi anche perché le ragazze sono molto più sensibili sulle dinamiche fra uomo e donna quindi le ragazze ti sgavano molto velocemente su queste cose e ho detto in generale le persone quindi non solo le ragazze hanno il cosiddetto bullshit detector ovvero il radar delle cazzate che le persone lo percepiscono a livello inconscio quando stai raccontando cazzate te le stai inventando ti sei preparato la storia per mentire alla persona che è davanti quindi in questo caso ti stai mentendo alla ragazza ti sei inventato una storia una versione di te stesso che in realtà non è reale la ragazza se sei bravo a mentire la ragazza non lo percepisce consciamente quindi non capisce consciamente che stai mentendo ma comunque lo percepisce inconsciamente e quindi non si fida la ragazza poi non se lo sa spiegare però sente che non si fida che c'è qualcosa che non so che che la porta poi a non fidarsi quindi questo era giusto per smontare il discorso che la seduzione è snaturarsi fingere di essere chi non sei no non è vero anche il discorso che tu conosca le dinamiche fra uomo e donna oppure no esistono comunque come ho detto una dinamica per esempio ce ne sono migliaia una dinamica è essere sicuro nel momento in cui non agisci in maniera sicura con una ragazza è abbastanza complicato avere risultati non si è mai sentito da una ragazza che quel ragazzo mi arrappa così tanto perché è così insicuro non c'è questa cosa quindi che tu le conosca o no esistono comunque le dinamiche fra uomo e donna che tu le conosca o no puoi fare delle cose che sono giuste o puoi fare delle cose che sono sbagliate nel momento in cui non conosci le dinamiche fra uomo e donna è molto improbabile andare a fare le cose giuste e chi ha già risultati con le donne che sono i cosiddetti natural quindi quelli che nascono bravi già bravi con le ragazze che non è vero non è che nascono già bravi perché ripeto non c'è il gene del nascere già bravo con le ragazze che so il gene del saper interagire con le ragazze e che fin da piccolissimi hanno già iniziato a fare esperienza con le ragazze non so magari si trovavano sempre a giocare con le bambine all'asilo e poi la loro madre li portava a giocare sempre con ragazze che ci sono sempre trovati in mezzo a ragazze e quindi non è mai stato strano per loro interagire con ragazze ma che le inizi quando hai un anno la pratica o le inizi quando ne hai 20 30, 40, 50 a un certo punto per diventare bravi bisogna iniziare a interagire con le ragazze quindi chi è sempre stato bravo con le ragazze non è che è sempre stato bravo è che fin dal giorno 1 si è trovato immerso in un contesto di ragazze non importa che inizi quando hai un anno quando ne hai 40 non cambia a un certo punto per diventare bravo devi iniziare a interagire con le ragazze però il discorso è che i cosiddetti natural quindi quelli già bravi naturalmente con le ragazze anche se hanno risultati con le ragazze spesso non sanno spiegare il come infatti danno poi sempre consigli sbagliati si te stesso prima puoi arrivare da quella giusta perché nel loro caso è vero però se una persona che non ha risultati con le donne segue questi consigli aspetta e spera quindi però i cosiddetti natural quindi quelli già bravi naturalmente con le ragazze applicano comunque i principi per avere risultati con le donne quindi agiscono in maniera sicura sanno coinvolgere la ragazza sanno flirtare con la ragazza hanno poche paure o magari anche zero paure se ne fregano il giudizio gli altri tutte cose che non sono bisognose della ragazza nei confronti della ragazza tutte cose che funzionano per aver successo con le ragazze quindi anche se le applicano inconsciamente inconsapevolmente le applicano comunque quindi che tu le conosca o no le dinamiche fra uomo e donna esistono comunque e non è possibile avere risultati con le donne senza applicare dei comportamenti che siano in linea con ciò che funziona con le donne senza applicare dei comportamenti che siano in linea con ciò che funziona con le donne cioè agendo in maniera insicura essendo noioso nella conversazione non avendo argomenti di conversazione avendo mille paure e insicurezze facendo tutte le cose sbagliate al puntento cioè non è che magicamente allora le cose andranno bene facendo le cose sbagliate le cose non possono andare bene devi imparare a fare le cose giuste essendo imparare essere sicuro di te stesso imparare la conversazione toglierti le paure sapere cosa bisogna fare in un appuntamento e giusto un'ultima cosa su cui ragionare cioè qual è l'alternativa? ok mettiamo che non impari le dinamiche fra uomo e donna qual è l'alternativa? l'alternativa è finire esattamente come la maggior parte delle persone la maggior parte delle persone non studia le dinamiche fra uomo e donna perché pensano che queste cose mica si possono imparare devi essere te stesso prima o poi arriverà quella giusta ma figurati queste cose sono da sfigati io mi ricordo le conversazioni che avevo ai tempi con i miei amici quando scopri queste cose qua e scopri che funzionano sei contento vuoi dirlo a tutti quanti e poi ti riscontri con i tuoi amici io mi ricordo i miei amici dei miei tempi che fra l'altro alcuni seguono adesso i miei video a distanza di anni e anni che però mi ricordo le conversazioni agli inizi mi diceva ma studi veramente queste cose queste cose sono scazzate mi ricordo conversazioni di 2014 di 2015 qual è l'alternativa? l'alternativa è rimanere da solo arrivare a 40, 50, 60 anni ancora da solo persone che tutte le volte io sento quasi tutti i giorni persone in consulenza e tutti quanti pensano di essere eccezioni tutti quanti mi dicono e Luca cazzo c'ho 30 anni e sono andato soltanto a escort in tutta la vita non sono mai stato alletto con una ragazza veramente dove l'ho conquistata io non sto dicendo tutti quanti mi presentano questo scenario però tutti quanti che mi arrivano in consulenza con scenari dove effettivamente non hanno esperienza con ragazze non è che magicamente ti pioveranno le ragazze al cielo bisogna imparare come si interagisce con le ragazze ma poi l'alternativa è che quello che succede a tantissime persone è che si finiscono in una relazione con una ragazza della quale non sono realmente contenti però gli è capitato ma se potessero scegliere la seduzione l'imparare le dinamiche fra uomo e donna ti dà la possibilità di scegliere diciamo l'uomo medio non ha possibilità di scelta la donna media sì ma nel momento in cui non sei più un uomo medio impari le dinamiche fra uomo e donna hai molta molta più scelta rispetto a una donna media potrei fare svariati esempi su queste cose non so anche se se farvi però il concetto è che se rimani così come sei sì è vero un uomo normale di base non ha scelta la donna invece è costantemente approcciata da tutti i lati di giorno di notte in discoteca nel proprio circolo di amici amiche su instagram su facebook su tinder quindi ha un sacco di scelta l'uomo un uomo che non sa interagire con le donne non ha scelta questo è vero un uomo che impara le dinamiche fra uomo e donna ha una scelta che è veramente imbarazzante a un certo punto lasciamo stare una delle cose che mi ho segnato dopo l'imparare la seduzione ti dà accesso a quello che è una vita da re una vita da VIP le persone che nell'antichità finivano a letto con decine o centinaia di donne in tutta una vita non sto dicendo che devi per forza finire a letto con centinaia di donne in tutta una vita ma sappi che è possibile io conosco varie persone ne conosco uno che ha 30 anni che è stato a letto con oltre 400 ragazze ora è l'eccezione ne conosco anche altri che sono più adulti gente di 40 anni che è stata a letto con più nello stesso numero di ragazze con 300 400 ragazze non sto dicendo che bisogna avere quello come obiettivo ma è possibile e nel momento in cui sei in grado di conoscere ragazze in qualsiasi momento sei in grado di andare a letto in qualsiasi momento con ragazze nuove hai possibilità di scelta hai possibilità di scelta di sceglierti una ragazza ma poi per una relazione una ragazza per come la vuoi tu veramente perché non devi per forza accontentarti come invece accade alla maggior parte delle persone che finiscono in una relazione per caso e ci rimangono in quella relazione anche se sono infelici anche se non ci stanno bene anche se non sono effettivamente appagati soddisfatti in quella relazione ma tanti si autocondannano in una relazione che è infelice perché e se la lascio e poi come faccio come me ne trovo un'altra e bisognerebbe imparare come si fa a trovare un'altra ragazza quindi se vuoi saperne in più su questi argomenti come imparare a conoscere ragazze uscirci insieme andarci a letto costruirti una relazione con una ragazza che realmente ti appaga con una ragazza che realmente vuoi o andare a letto con un sacco di ragazze dipende da quali sono i tuoi obiettivi clicca sul link in descrizione oppure vai sul mio sito www.approcciala.it lì troverai tutte quante le informazioni riguardo ai miei corsi se hai qualsiasi tipo di dubbio o domande ci sono sempre dei contatti telefonici in descrizione per parlare con qualcuno dei miei collaboratori puoi sia chiamare sia anche scrivere su whatsapp detto ciò ci vediamo al prossimo video